Ciao ragazzi, allora appena finito una serie di appuntamenti e ho pensato di farvi questo video molto velocemente su una risorsa fighissima che io consiglio per fare pratica su reading e comprensione, listening, è praticamente una risorsa gratuita nel senso che c'è sia la versione premium sia la versione a pagamento ma ha un prezzo veramente imbarazzante. Aspetta che mi metto qua di fianco, alto, tac, tac, e ve la posso far vedere per bene. Allora guardate, si chiama lingua.com, come vi dicevo, io adesso ho fatto l'accesso con l'account premium, quindi vedete che ci sono moltissimi materiali per fare pratica, ma anche se faccio logout e vi faccio vedere quelli che ci sono, comunque qualcosina c'è, non è proprio zero. Considerate che l'investimento per fare la premium è di 9,50€ all'anno, una roba del genere, quindi veramente poca roba, veramente un prezzo imbarazzante, però è molto ben fatto, è molto utile. Vedete, intanto è graduato, quindi ci sono i testi divisi per livello, A1, A2, fino al C1. Ogni testo ha sia la parte testuale sia la parte audio, questo sicuramente con la versione premium, con la free non mi ricordo. Letto, fra l'altro, con tre accenti diversi, quindi c'è sia di solito l'americano che il britannico, e ci sono le domande di comprensione. È uno strumento, secondo me, utilissimo per fare pratica di utilizzo della lingua, per chi sta preparando le certificazioni, è bello perché lo fai a livello adeguato per te, che sappiamo essere una cosa importantissima. Fra l'altro c'è la parte di ascolto, dove di nuovo hai sempre graduato degli esercizi da fare di ascolto con le domandine di comprensione. C'è la parte di dettati, che sinceramente non conosco, ma deve essere carina anche questo, probabilmente ascolto e scrivi, beh, non è che ci voglia, chissà che per capirlo. C'è la parte di lessico per assimolare dei vocaboli, e c'è anche la parte di business English, con dei testi specifici nell'ambito più business. Quindi io la trovo una risorsa fichissima, utilissima, gratuita, o comunque anche nella premium, 9 euro all'anno, di cosa stiamo parlando, una risorsa della madonna. Spero che vi sia utile, ci vediamo presto nel prossimo video. Ho deciso di fare un po' di questi video un po' più brevi, ma con delle condivisioni utili per voi, spero che li apprezzate. Se volete qualche cosa in più o di specifico dal canale, scrivetemelo nei commenti, che apprezzo molto i suggerimenti, i feedback, insomma tutto quello che ci può fare entrare più in comunicazione. Ci vediamo presto, ciao a tutti, devo trovare la sigla, ciao! Ciao a tutti!